Allora, qui Tatiana, illustrami, dove ci troviamo? Allora, qui ci troviamo sulla pista D'Untercepis, per la precisione. Questa è la pista nera, quella più difficile, che si chiama CIR. Brava! Ok? Guardate, notate il paesaggio che è stupendo. La giornata di sole è fantastica. Adesso la temperatura è anche migliorata rispetto a prima e quindi si sta d'addio. Cosa stiamo facendo noi qui? A 2300 metri. Ci stiamo fermate e ci stiamo godendo questo panorama e questo sole fantastico. In attesa che arrivino? In attesa che arrivino gli altri e faremo delle bellissime riprese perché sono tutti bravissimi. Ok, è illustrato benissimo quello che volevamo dire. Ora mi faccio un giro con il sole contro, sperando che venga fuori qualcosa. In attesa che scendano i nostri uomini e la mia piccola baby Maria Teresa. tastare un'ottima prima e la mia è voluta, sperando che venga un uomo comedrà Grazie a tutti.